Yu-Gi-Oh tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con l'opening di un prodotto che non volevo aprire. L'ho convinto io, almeno facciamo un po' di varietà su questo canale. Allora, oggi sono stato costretto ad aprire lui. No, costretto, l'ho convinto. No, no, costretto. Non trovi la gosta, o si trovi la gosta. Diciamo che mi ha corrotto dicendome c'è la gosta, c'è la poltiglia e l'hai pagato poco. Quindi, visto che in inglese costa tipo la metà di quello in italiano, mi son detto, ma chi se ne frega, alla peggio mi faccio da quello che manca dal valore. Sto cazzo, sto cazzo proprio. Però, se trovo la gosta, mi regala tre turco. Mentre con la maga, mi regala la roba a Maclord, questo è l'affare per me, è indescrivibile. Quindi deck profile Maclord. Ogni volta che spiega una carta, la strappo. Sarebbe una decklist incredibile. Tipo... Quelle usegetta. Sì, avresti mai bruciato tu il disco Clifford. Tutta la stessa roba. Per ogni carta Maclord, però. Va bene. Ragazzi, se non mi seguite da tanto, non potete capire la città. Detto questo, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Magic Corner. Quindi... Oh, perfetto. Quindi Magic Corner, che dice? Se vi serve il prodotto sigillato a carte singole, trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic e Pokémon. E One Piece. E Digimon. Che quelle, Michi ha detto che le vuole. Assolutamente. Quindi so già a chi darle. Trovate il link di Instagram qua sotto in descrizione. Scrivetemi, mandatemi le foto e nel caso se ne può parlare. Detto questo, adesso io passerei subito all'unboxing. Posso vedere? Anzi, anzi, prima. Per monetizzare di più, farei vedere cosa si trova all'interno. Niente. Andiamo. Allora, praticamente, le uniche carte buone che si possono trovare all'interno di questo set. Le prime? No, le prime quattro, perché anche Dragolato dirà. È bello, è bello. Eh, ma guarda anche lui, c'ha il suo perché, eh. Come fanno queste carte? Sta così, come fanno? 13 euro il Dragolato. Ti pensa che vedo la regalata, questa ultra se esce. Però se esce questa e questa. Ovviamente, dicevo. Ah, ok. Scusa, controlla il posto di questo. Controlla il posto di questo. La compro. Qua sfioriamo delle cipollone. Guarda, guarda, appena vai in italiano, costa. Aspetta. Dove sta? Vai, 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 vai. Il box è in inglese, quindi non cambia assolutamente niente. Guarda, 14 rispetto ai due che costano normalmente. Assurdo. Compra infiniti box italiani di inglesi. No, dovresti cambiare la lingua. No, è impossibile. Stavo pensando a non a mettere che sembra come un coglione. Se no c'è ovviamente il Dragolato che in inglese, guarda, in italiano 2,30. In inglese 150. Adesso perché l'ho già controllato ovviamente. Poi la poltiglia. Due sul market. In italiano sì. Assurdo. Assurdo. Perché non ha aperto nessuno. No, perché è introvato. Perché non ha aperto nessuno. Ma guarda, c'è una minicola. Guarda questa! C'è Riccardo del Toxic. Guarda Tamaneverds, quanti mi aperti per trovare due di queste e la poltiglia di... Per me è Tamaneverds, questo è il Dragolato del Ava, controlla. Tamaneverds, c'è, qui le Dragolato del Ava. Calmente lo stessi ma con questo box. Lo so sicuro, è impossibile. Però l'ha messa un sacco di impiegato. Ha speso un bel po', no? No, non c'è. No, pensa che sfiga sto tipo che ha sbustato infiniti di questo e manco il Dragolato. Ma secondo me l'ha trovato? E so bene. No, o se lo tiene o l'ha messa a un prezzo troppo basso e quindi gliel'hanno già comprato. E pensa che con gli... Scusa Taman. No, vabbè, non diventa che magari ne sei. Vai, vai, non me ne frega un cazzo. Il coglione che sei, almeno alza il prezzo. Poi, vabbè, a parte ste robe che costano e che abbiamo già visto, come common c'è un mostro resuscitato buona e poi... Basta. Delle carte Filz. Ah, Filz Enter. Che poi le common sono a caso perché è un set basato su Maric e i Mac Lord che c'entrano. Niente. Sta roba di Maric ce sta, ma vabbè. Manno le ciance, aprimo sto box. Ok. Abbiamo visto che... Pietà, praticamente. Cioè, se si dice bene, ti fai... Te l'hai in plus, ti dice bene. Un gran plus perché adesso l'hai pagato. 45. Se te sbusti la melma... Ce va da pari. E il prossimo è Toon Chaos. Sì. Quello me lo devi... Cioè... Mi devi da 250 euro se lo vai a dire. Oh, oh, oh. Inventiamo... Cioè, prendiamo a raggio X. Vediamo dentro cosa c'è. Ma hanno riprintato tutto. Allora non lo apriamo. I Toon l'hanno riprintati adesso. Allora non lo apriamo. Allora. Prego, faccio io. Ah, scusa. Sono onesteta. Ti giuro che è aperto. Eh, vabbè. boxer sigillato scam niente ultra un lavorone saranno fatte risultato così anche l'ha fatto proprio aspetta noi non voglio dire che aspetta parli di un negozio parli di negozi ok allora direi di fare una cosa di questo non l'ho mai aperto allora direi di fare una cosa però metà testa ovvio però direi di fare sono 24 buste ma si direi di fare una cosa ma meno il caos o è che cazzo si smintiamo qualsiasi cosa di valore la madonna allora direi che è sufficiente 1 2 3 ma un sacco chiare i pacchetti non perché sono veri è vero e anche sfocati però questo è sfocato un voto questo è sfocatissimo l'ho detto che era un box scam e trovi le carte di pokemon dentro troppo troppo che carte di pokemon siamo un pochino a testa adesso fare la prima anche perché poi mi è sorto un boh daie stavo pensando una roba io se l'avevo mischiati così poi c'è uno e una li metto a posto sì ci siamo giocare la prima oltre ma questo è un box fallato e quindi troviamo 3 o un applauso però questo è il minto quindi vado a per il 55 otama grande allora guarda qua questa seconda ultra per resto non aprimo nemmeno no finite le le carte buone non si faccio così si faccio rapido io no no questa ve lo fa la rapida a questa però è forte sì lo so che c'è modo per tirarla sul campo avversario e no blocca la millata dei tira no non fa voca special lui a ok non mi ricordo come lo tiri però è forte a con mi capia di essere lo tira una trappola seconda ultra impossibile posso morire la seconda volta non c'è proprio la suspense ok il cyber energy scarta carta jeans vabbè non ho finito non c'è un mobiletto non è una ultra un 2000 quindi questo è il jeans a jeans o questa bell jeans o lord sarà la specchiata è difficile o forte c'è un secret questo è il forte di cosa trova l'indragolato della della costa non credo che che sia quello a farci flassare questo è come l'opening di fotone per nova un meno e basta c'è una niente dai tirame fuori sta fuori no ok poi c'è sempre la possibilità di trovare comunque la poltiglia e l'agosto la poltiglia e l'ago sapevo che dove sta box dove tenerlo sigillato però c'è anche la rara qui dentro ma c'è in tutti i pacchetti la rara questa è ancora di meno vale trovo dico io sto sicuro visto prima o ma adesso aspetta un euro o è impossibile che non c'è più niente è impossibile ti sarai sbagliato non è possibile due pacchetti due oltre in 36 pack che pochi spazio di merda no ma che spazio ce ne sarà quattro è impossibile ma che spazio di merda è ma chi la comprerebbe male come vende secondo perché non c'è manco una ristampa guarda ottana ma te l'aperti sarà un motivo scusami ma non ci ho visto lungo mac lord penso tutte le ultra brutte l'avemmo trovate per tanto che l'ho uscita quella mac lord a sto punto peccato che l'ho uscita quella mac lord a sto punto e' ooooh monster reward mamma mia che box vergognoso che stiamo prendo ma è orribile punte basso sto box è stato veramente l'ultra c'è proprio schiva il cazzo penso che abbiamo trovato anche tutte le super tutte le common ve lo vi sono spoilerato io ero troppo curioso io non può oh 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 visto visto adesso finito veramente no c'è una quarta lascia fa me lascia fa me ti sei ripagato il box ma non è vero aspetta valla vedere valla vedere in inglese grande otama valla vedere in inglese sempre sul pezzo per me la ventina c'è arriva a sto punto si si 20 euro vabbè vabbè meglio di queste lascia fa me adesso ci penso io oramai è finito non c'è più niente c'è la quarta oppure c'è la costa c'è la costa e lì oh c'è davvero io porca troia guarda meno male che non c'è quello era veramente il potere ci sono uscite tutte le super tutte le ultra le super no quindi è proprio fallimentare andremo di male in peggio ma incontro però ma incontro ma incontro allora ma incontro jinzo oh dai che poi sai una cosa io me l'ero spoilerato quella di prima perché le ultra sono prima delle rare sì anche qui non c'è un cazzo e quindi l'avevo proprio sciallo da te la porio le robe infatti ti vedevo guarda l'ultra c'è l'ultima te la mattina me la so non capisco niente lascio aperto sono un pappinato ah il cosmos challenge però devi stare qua sotto e ho capito c'è se te e io non più là non posso andare questo pacchetto secondo me riserva delle gioie assurde guardate quanto sei più professionale non ci credo 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 che vabbè però devi farmi aprire a me il box allora scusami per te il fallimento qui per me c'è ne è stato in più da ora guarda dire pancara ancora è impossibile che sono finite è impossibile magari ci sono veramente due sto box è assurdo in realtà per caso è una sfiga di cristo ma quando ho visto la foglia ho detto no è dragolata di là e senza legge il nome reboot mac lord brain control sono uscita tremata merda ma assurdo con questo box perché l'abbia te l'ha comprato per chi voleva il dragolato di agosto così se vende un prodotto basta solo la carta giusta ho visto che bello adesso pensai che qui c'è qualcosa sono abbastanza convinto che qua c'è un cazzo cazzo enorme ma mancano troppi pack per non esserci nulla c'è assurdo le super che mancano e guarda un po tanto oramai penso questo video c'è assurdo assurdo due ferre già faccio oh ma ti rendi conto che class che faccio sesso e te sbusto la mer ma incredibile devo tornarla per forza comunque ascolati a questo punto c'è quanto te dici stronzate cappello perché ci sono due volte a cinque una su quattro una su cinque buona è perché adesso la smentiamo pure però però ho acceso sesso punto per forza speriamo almeno la gioia di aprile di pack o left hour offering come si chiama forte 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 niente bellina però nel senso non sta assolutamente niente fa montare il maschio delle divinità gizze cappello e con il mono perde tutto se me lo voglio montare non ristampate tanto non c'è solo costa non è perché questa la palla dirà di merda compri altri buco compri altri box sic bander wow io comunque sono veramente cosa di vedere quanti ultra nata c'erano nel box a questo punto perché comunque c'è la sesta e te lo dico io è impossibile che ne so cinque vabbè verrà un po cosa ti tiro fuori qua agosto o 2x o comunque short print vaffanculo te il tuo short print di merda comunque possiamo dire con assurda certezza che adesso perlomeno non comprate sto se lo volete tenere che è bellino da vedere ma manco no dai ho sempre caos infiniti proprio è sempre questo assurdo c'è la certezza nei pacchetti trovo queste tre c'è la certezza ma guarda che di reale non c'è più di quelle ma perfetto cos'è sta carta non ne ho le parete a vedi c'è ginsola tanto questo è sempre il tipo di prima che che ci ha le mani così una volta si diceva che i pacchetti che c'erano il bollino rosso in alto ci fosse la la foil vediamo guarda quanti ha oh se c'è weasel c'è anche che costa non ne ho visto e allora non c'è niente però ho visto è vero c'era la foil te l'ho detto ma veramente quindi speri un secondo io non ce l'ho più un disastro io ce l'ho qua lascialo per ultimo tenendo per ultimo apriamo velocemente un altro anche qui ma cazzo non l'ho visti io prima tutti i rossi non possibile tutti i rossi quindi vuol dire che c'è non è vera sta cosa ti immagini in tutte i foil jeans ejector no comunque no sto in tutte eccola c'hai creduto per un momento io ci credo sempre ma io sto sicuro che c'è un'altra che sarà la melma che mi farà montare ecco infatti è qui no io ci credo fino alla fine io finchè non finiscono poi quando ho finiti eh 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 ma scioppi la melma vabbè è bella non credo di fare una roba del genere oh dai dai il 3 per wow ogni pacca che passa si sento che perdere i soldi questa addirittura oh non l'ho smittata io però però in casa è la rara 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 mancano quanti pacchetti che vabbè quattro quattro avevamo detto no spesa dei 40 euro è impossibile andarci in meno invece mostrare borna quella è tutta roba che io dovrò caricare sul market pensa a te pensate che faticaccia per niente questa pure è così quindi ci sarà sicuramente qualcosa eh sì in realtà è quella col pallino verde anche oh già partiamo molto bene no quello che mi urta è che due uguali fermati ti propongo un'offerta eh vogliamo scambiarlo? vai perchè la mamma costa così tanto che non esce eh secondo te anche la gossa costa 150 euro non c'è il pane in alto non credo oh wow dai ho visto quello perchè dietro mi farebbe una cosa di meglio ah questo è una verità fregata che ho fatto questo pacchetto quindi qui sarà per forte gli ho tolto la negatività da io so che dio mi ama oh mecca guarda come però dai cioè nel senso volevo una nuova mecca però non volevo non trovare un cazzo mamma mia che bello non ti scordare questo raga è vergognoso ma guarda grazie a dio questa quale? ah la cosa? si prego sei anche la stessa persona che hai tirato fuori tutti questi no non hai tirato fuori tutti tutti beh direi che è nato di merda comunque sia cioè è proprio una roba così brutta e non l'ho mai vista in vita mia oh brutta 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 eh comunque no ma vero ma comunque la gente veramente gli basta così poco cioè lui tu metti questa e drago a lato dirà in versione alternativa e hai fatto jackpot non darò mai più un retta cristiana sulle opening assolutamente e non ti darò mai più il tablet in mano è vero quello tosta quindi a casa mia non c'entri più fammi la deck profile fuori no facciamo come con sacchetto deck profile a distanza online te le faccio online non te le faccio non ce voglio vengo qua mi diverto fumo una paglia in macchia e poi torno a casa devastato tu sei devastato in realtà beh un pochino diciamo che guarda quanta roba mecca oh hai detto che volessi montarlo adesso facciamo la deck profile subito scusa ci devo ragionare un attimo però secondo me è fattibile non è vero senza snips senza niente sì c'hanno più 100 all'attacco perché sono più spartane questo è forte questo pesca 2 va indietro detto questo ragazzi vi ringrazio di aver visto questo video un piccolo supporto sarebbe gradito mi piace considerando quello come è andata sì per forza per forza anche la donazione tanto PayPal dovrebbe esserci qua sotto eh quindi se volete è un disgraziato schifoso non mi ricordo speriamo che no vabbè o se vogliono supportare sì sì ma in realtà è giusto in realtà è giusto tu non lo faresti io assolutamente già ti prendo le carte che è quello detto questo ragazzi state meno easy ti creo contenuti ci faccio nemmeno detto questo ragazzi state meno easy e noi ci rivediamo mercoledì sempre qua con il podcast ciao a tutti che mercoledì a voi potete qui è qui qui è qui